La Regione Abruzzo è pronta ad avviare la campagna di vaccinazione con la terza dose anti-Covid per tutti. Somministrazione che, come fatto in precedenza, coinvolgerà i cittadini in maniera graduale, ma non sarà più ospitata prevalentemente nei centri vaccinali diffusi capillarmente, ma in farmacie e ambulatori medici. In questa prima fase la vaccinazione attualmente già in corso per sanitari, gli ultrafragili, gli ospiti delle strutture per anziani sarà aperta indistintamente a tutti gli over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno sei mesi. Successivamente, a seconda delle disposizioni statali, sarà aperta la possibilità di vaccinarsi alle altre fasce d'età. Possiamo dire che l'Abruzzo è partito con la terza dose e adesso sta mettendo a punto tutta una serie di ulteriori strategie per cercare in questi due mesi, almeno fino alla fine dell'anno, per cercare di incrementare il numero delle terze dosi oltre a cercare di fare ancora qualche prima o seconda dose se c'è qualcuno ancora disponibile, ma noi non demordiamo perché riteniamo che la vaccinazione si debba portare avanti. Sulle terze dosi da domani attiva anche la piattaforma poste, per cui il cittadino che non viene contattato perché in alcune alzi sta mettendo in campo anche un'attività chiamata, può andare sulla piattaforma e può prenotarsi. Quindi scegliere l'hub e il giorno e l'ora, come sempre, si poteva fare nella piattaforma. La Regione ha annunciato che la piattaforma poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti-Covid-19 per i nati fino al 1961 sarà attiva da domani, dalle ore 12. Per quanto riguarda i sanitari invece stiamo svolgendo un'attività chiamata, siamo noi che stiamo chiamando i medici, il personale sanitario, partendo soprattutto dagli ospedali e da quelli che si sono vaccinati per prima, perché bisogna rispettare anche un ordine cronologico. E quindi, insomma, ieri sono stato con l'assessore Veri che, ripeto, ci guida in tutta questa attività. Insieme alla struttura abbiamo fatto un incontro, abbiamo messo a punto tutte queste novità ed attività per far sì che la terza dose possa andare speditamente. La cosa importante è che devono essere passati sei mesi dalla seconda somministrazione. Sì, la condizione sine qua non è che devono essere passati sei mesi. La vaccinazione può essere anche terologa, per cui si può fare anche con un vaccino diverso. Il vaccino che oggi si utilizza è Pfizer, anche se ieri sera è arrivata la nota che anche Moderna è stato sdoganato, per cui si può utilizzare sia Pfizer che Moderna per ora. Questi sono i due vaccini che si possono utilizzare per fare la terza dose. È stato chiuso anche l'accordo con le farmacie sul vaccino anti-influenzale, per cui adesso le farmacie potranno fare contemporaneamente il vaccino anti-influenzale e il vaccino per il coronavirus, così i medici di medicina generale, ma anche gli specialisti ambulatoriali, per cui, insomma, a fronte del fatto che cambia un po' il sistema di arruolamento dei medici della struttura commissariale, che adesso passeranno attraverso le regioni e non più direttamente la struttura commissariale, però per il resto abbiamo altre forze da mettere in campo. Perché ha fatto Johnson & Johnson? Resta per adesso sei mesi, però c'è una, diciamo, in America, stanno sperimentando una dose dopo due mesi, però questo ovviamente deve ancora passare al vaglio di tutte le varie strutture, diciamo, del nostro paese e quindi per ora resta la condizione base, insomma. Però su Johnson & Johnson c'è un'attività che si sta svolgendo, ripeto, negli Stati Uniti, dopo fanno la seconda dose dopo due mesi.